Spacciatore sfugge ai controlli delle forze dell'ordine albanesi fornendo false generalità e stabilisce ad Ancona la sua base logistica per il traffico e per il confezionamento delle dosi. Ma le indagini coordinate dalla squadra mobile di Ancona hanno portato all'arresto del ricercato, Kresnik Daci e di altri due connazionali, Ledeon Dizzari e Globen Cibaku, poco più che ventenni. Sono stati colti in fraganza di reato in un appartamento preso in affitto in località Pinocchio, nelle tre stanze dove i poliziotti hanno fatto irruzione all'alba di lunedì sono stati rinvenuti sei etti di cocaina pura, un chilo e mezzo di hashish e mezzo chilo di marijuana. Sparsi ovunque, banconote per un totale di 12.500 euro, l'incasso degli ultimi giorni di spaccio. L'importazione e la preparazione delle sostanze stupefacenti di provenienza albanese era in grado di coprire la domanda di droga sul territorio anconetano e nella zona sud della regione. I tre ora sono rinchiusi nel carcere di Montacuto. Abbiamo portato a termine un'importante operazione di polizia giudiziaria che si è concretizzata nella giornata di ieri con l'arresto di tre soggetti albanesi, tre pedine importanti dello spaccio addirittura al di là dei confini nazionali, quindi soggetti che avevano eletto il loro covo qui nel capoluogo di regione e da questo appartamento riuscivano a smerciare quantitativi notevoli di sostanza stupefacente. Il personaggio più importante era ricercato a livello internazionale perché le autorità albanese avevano spiccato un mandato di cattura internazionale, quindi la nostra attività di indagine è stata importante anche per assicurare alla giustizia un personaggio di assoluto spessore che era riuscito a sfuggire anche in taluni controlli effettuati in precedenza.